because you too non è importante ma è l'unica cosa che conta riprendiamo con i fantastici quat 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 monica in italia venne pubblicato il best seller Woody Allen il caccatore di tortore 72 no sessica 72 si, tra l'altro no poi eh che poi eh che eeeeeee da questo libro un libro bellissimo la storia di due bambini di diverse nene errori per monica sono dadio no tu sei MONICA sono dadio no aaaaai si 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 no doppio errore per monica monica si guarda intorno e punta il vid verso a marco marco Pronto a difenderti A, B o C B Nella risposta è esatta Marco resta in gara Monica Ciao Jessica qua Renata si sposta Ed è il momento Testo 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 Esattamente con i stati Testo Testo Ho aperto il podio Now you're going to die